Oggi voglio interrogare Orga droga E io c'ho la febbre, arrivederci Fumagalli non mi fa rincazzare Mi posso offrire volontario? No, oggi volevo sentire Amal prima Ma perché? Perché non sai mai un cazzo! Eh Amal, sei un cazzo Non sai mai un cazzo! Prosciutto! Fumagalli ora mi hai rotto i coglioni, interrogo te Ma ho la febbre! Dimmi la data esatta di quando incomincia la seconda guerra mondiale Giovedì Tu sei un fulminato Sabato? Ti metto due E mi chiami, alza la media Primo settembre 1939 Che era un sabato? Bravo, ti metto due comunque Ma perché? Perché mi stai sulle palle e faccio quello che voglio Che classe di merda Prosciutto!